Buongiorno a tutti, buon lunedì 4 novembre e buona inizio settimana, direi che non è male iniziare così con questa bella vittoria sofferta, rotonda, forse anche troppo, visto il Napoli e quello che ha costruito, ha creato soprattutto nel primo tempo, ma anche nella ripresa, l'abbiamo detto, tutti a vedere, mettere un like e a commentare il video pagelle, per noi Sommer MVP mostruoso, migliori in campo, interventi decisivi sia sullo 0-0 sia sull'1-0 per l'Inter, su Varaskelia, dopo l'episodio contestato dello sfioramento di Acerbi su Ozyman, Fa un miracolo incredibile Sommer, così come aveva fatto all'inizio su Elmas due volte, e secondo me anche sulla traversa di Politano, se non ci fosse stato il legno, lui ci sarebbe arrivato, com'è che era? Dov'è Sommer? Sommer è basso? Cos'è che dicevano negli scantinati su Sommer? Non è all'altezza di Onana, provate a chiedere ai tifosi del Manchester se farebbero a cambio, nono clean sheet in campionato, più due di Champions contro gli otto totali della stagione scorsa di Onana, solo per fare un raffronto, e siamo solamente a un terzo della stagione. Ma al di là di questo, un Inter che dà il messaggio di forza, come sottolinea il teccaldo più famoso di YouTube in arrivo, continuate a iscrivervi al canale con forza, mi raccomando, chiamate amici, parenti, soci dell'Inter Club, colleghi, tutti quelli che conoscete, che dobbiamo arrivare ai 50k, superare il traguardo, così come ha fatto ieri l'Inter, che aveva vinto una sola volta negli ultimi 17 anni a Napoli, campo storicamente ostico, e una prestazione di livello altissimo, una bellissima partita, e l'avevamo detto anche prima, perché quando due squadre si affrontano a viso aperto, lo spettacolo è assicurato, quando una si chiude in difesa e pensa solo a non far giocare l'avversario come la Juventus settimana scorsa, poi il risultato è un noiosissimo scontro ad annullarsi, in cui l'Inter non ha voluto rischiare, a differenza di ieri, che invece ha spinto sempre, andando anche a raggiungere un risultato fin troppo rotondo, per quanto visto in campo, però grandissima prestazione da parte di tutti, Sommer, Darmian, Acerbi, Carlos Augusto, anche qui Inzaghi si è superato, mettendolo braccetto, ed è un'alternativa veramente adesso credibile, per tenere Acerbi centrale, forse è andata meglio così, perché abbiamo visto subito come De Vrij faceva fatica a star dietro agli strappi di Ozyman, a differenza di una Acerbi che non l'ha fatto mai giocare, controllare, l'ha contrastato, anticipato, come era già successo con il bomber nigeriano, che proprio ieri sera è tornato titolare, ma non ha avuto praticamente nessun tipo di occasione, se non quella deviazione ravvicinata, quel tap-in su cui Sommer ha fatto vedere i riflessi top che ha, e secondo me ci sono anche dubbi che fosse fuori gioco, come è segnalato. A proposito di fuori gioco, perché tutti addirittura la prima pagina di Tutto Sport stamattina dice Interboom con gli aiutini, se si può fare un titolo del genere, dopo una partita così bella, polemiche del Napoli con Mazzari che non ha rilasciato dichiarazioni, il direttore sportivo Melluso ha gridato all'ingiustizia per i due episodi contestati su il contatto Acerbi-Ozyman, quella sfiorata, c'è anche un colpo d'anca, ma è vicinissimo Massa, e l'abbiamo sempre detto, si valuta non frame by frame al replay, l'intensità non si misura con un replay, e se l'arbitro, come in occasione del contatto Lobotka-Lautaro, lascia correre e vede benissimo quanto accaduto in campo, anche il VAR da protocollo non può intervenire, anche se su cui bisogna aprire una parentesi, bisogna uniformare il tutto, perché a volte interviene, a volte no, e se le valutazioni e i metri di giudizio sono quelle di lasciare bene o male quasi sempre correre, allora spiegatemi perché non era fallo quello di Lukman su Di Marco, che addirittura spinge e destabilizza buttando la terra al limite dell'area prima di un gol, non un intervento a centrocampo senza neanche il possesso del pallone che se ne è già andato, uniformità di giudizio, se non è fallo quello di Lukman, allora tutto il resto neanche, e bisogna avere un minimo di coerenza sempre, aspettando le valutazioni poi della direzione di Rocchi, comunque sulla gazzetta ci sono dei dubbi su quel contatto, e un po' tutti a parte Cesari che ho visto che invece sosteneva fosse rigore quello per il Napoli, sono contrari a dire, anche Marelli dice che non è assolutamente rigore quello scontro di leggera entità a Cerbi-Osimane, comunque al di là delle interpretazioni, dei giudizi, dire che l'Inter vince grazie agli aiutini mi sembra un po' irrispettoso, ditemi un po' cosa ne pensate, una squadra che riesce a uscire con un clean sheet dal terreno di gioco di Napoli, con uno 0-3, si riprende con autorità e personalità la prima posizione in classifica, va bene che si deve tirare ognuno l'acqua al suo mulino, ma mancare così di rispetto alla squadra di Inzaghi, che sta facendo delle cose straordinarie fino a questo punto, ma non si deve per questo sentire invincibile, già arrivata, con lo scudetto già cucito, le distanze sono sempre minime, la Juve a due punti, il Milan a 6, il Napoli a 11, ma c'è ancora una stagione lunghissima, quindi prendere e festeggiare questa vittoria, così come hanno fatto i giocatori nello spogliatoio, però subito recuperare energie, recuperare forze, perché con l'Udinese già non sarà facile, la Juve giocando ancora in anticipo, potrà di nuovo contro sorpassare in questo continuo duello, testa a testa per il primo posto, però giocherà contro un Napoli che è in grande crescita, come abbiamo visto ieri sera, che ha fatto anche un possesso palla maggiore rispetto ai nerazzurri, piedi per terra e continuare su questo percorso, consapevoli ma anche umili, affamati, cattivi al punto giusto sportivamente per continuare su questa strada e non lasciare punti per strada come già fatto con Sassuolo e Bologna e la partita con l'Udinese già come tipologia di squadra, giovane, fisica, che corre, che pressa e a San Siro, come è successo con Bologna e Sassuolo, bisogna raddoppiare l'intensità, la concentrazione, non abbassarla, perché sono poi queste le partite che ti fregano. Un Inter che vince grazie alle parate del suo portiere, ha una difesa stagna, nonostante le defezioni con De Vrij che subito alza bandiera bianca e viene sostituito da un Carlos Augusto sorprendente per come ha interpretato anche con fisicità, con quella giusta cattiveria al ruolo di braccetto sinistro e adesso in emergenza ritorna una soluzione a cui affidarsi con De Vrij aspettando gli esami di domani anche a Dumfries, anche lui sembra meno grave sperando che sia solo un crampo quello di Dumfries, se no i problemi si raddoppiano aspettando ritorni di Pavard che ieri Inzaghi ha detto 10-15 giorni, di Bastoni che è pronto ma non da giocare titolare, una Cerbi che abbiamo visto stremato, incrociando le dita per gli esami però capite anche quando iniziano tutte queste problematiche il gioco si fa ancora più difficile e non dimentichiamoci che il 12 di dicembre c'è poi la sfida fondamentale a San Siro contro la Real Sociedad da vincere assolutamente se si vuole il primo posto del girone è un sorteggio diciamo meno difficile per gli ottavi di Champions un Inzaghi che si è tolto i sassolini dicendo che già erano pronti commenti ad hoc dopo il primo tempo di Lisbona critiche di nuovo Inzaghi out a rifiorire a riempire di negatività l'ambiente zittiti tutti poi da una straordinaria rimonta e questo lo sa bene Simone Inzaghi che l'ha sottolineato e adesso però non si è ancora fatto niente sappiamo che alle prime difficoltà rifioriranno di nuovo e verranno alla luce un Lautaro che non ha segnato sbagliando anche non da lui un'occasione intorno al sessantasettesimo un piattone che ha alzato troppo peccato ma che ha fatto un grande assist per Barella con grandissima visione periferica appoggiandoci appoggiandosi al rimorchio di Barella che poi ha fatto un numero quindi un Inter che vince senza i gol del suo condottiero del suo capitano che rimane comunque con una media altissima un Barella che finalmente si ritrova e segna il suo primo gol stagionale e ha sottolineato anche il periodo difficile che ha passato non riuscendo a fare sempre quello che aveva in testa anche ieri aveva cominciato male la partita con tre palloni persi anche male poi ha cambiato proprio registro ha messo la modalità partita decisiva e come nazionale ha fatto vedere tutta la sua qualità addomesticando quel babà abbiamo detto per Cialanoglu che ha già quattro gol ok tra i rigori ma invece proprio come con il Barcellona un anno fa ha sbloccato la partita con una sciabolata da fuori area i gol dei centrocampisti abbiamo sempre detto che sono fondamentali ieri ne sono arrivati due di importanza estrema è un Barella che così finalmente si butta alle spalle anche tante fake news che si erano diffuse sul suo conto calcio scommesse e quant'altro che avevamo subito bollato come cialtronate un Ciala che non solo costruisce difende recupera palloni ma va a segnare anche un gol importantissimo che cambia la storia della partita con il Napoli che avrebbe meritato anche di più lo diciamo senza peli sulla lingua così come i due episodi sono assolutamente dubbi ma come tanti in altre partite e dare a solo questi episodi la spiegazione di una vittoria solare meritata da parte dell'Inter che vince 0 a 3 mi sembra poco poco rispettoso adesso recuperare qualche giocatore sperare che non ci siano cerotti a far pagare questa partita più del dovuto anche Sacchi udite udite riconosce la partita e la crescita dell'Inter anche se sulle sue solite valutazioni di gioco difensivo dell'Inter non siamo d'accordo mi sembra una squadra proprio che cerchi sempre di attaccare di andare a segnare a volte anche scoprendosi vediamo se riesco a riprendervele eccole qua le sue dichiarazioni un Inter così è da scudetto ma il Napoli l'ho visto vivo alla fine del primo tempo avevo scritto il Napoli è tornato dice lui però se interpreta le partite come l'è capitato a Torino contro la Juve tutto però può tornare in discussione Juve Inter a livello di spettacolo è stata una sfida che ha ammazzato il calcio questo Napoli Inter invece ha acceso l'entusiasmo dice alla Gazzetta Sacchi dopo la prima mezz'ora avevo scritto è tornato il Napoli a quel punto nessuno avrebbe immaginato che Nera Azzurri avrebbero vinto in modo così largo questa è la ragione per cui sostengo che il Napoli non si deve demoralizzare ma insistere dell'Inter cosa lei ha impressionato il fatto che ha ribattuto colpo su colpo e che per la prima volta in questa stagione ha pressato i Nera Azzurri hanno giocato a viso aperto e per questo motivo non è nata una partita come non se ne vedono spesso nel campionato italiano la squadra di Simoninzaghi ha mostrato qualità esperienza potenza e velocità e finalmente non ho visto 5 o 6 giocatori in zona difensiva non so quando li abbia visti a questo punto sarà un duello tra Inter e Juve la domanda la Juve che pratica un calcio basato sull'attenzione difensiva e sul contropiede sta crescendo quella invece è concesso gli uomini di Allegri hanno una volontà di ferro e lo si è visto anche nell'ultima partita contro il Monza non molano mai poi non hanno gli impegni europei che è un bel vantaggio e questo lo diciamo da sempre quando vedete la stanchezza gli infortuni le trasferte ieri Inter e Napoli erano bene o male sullo stesso piano però avendo poi la possibilità di preparare solo una gara a settimana cambia tutto anche a livello mentale e il Milan a 6 punti di svantaggio non è un distacco clamoroso beh con tutte le partite da giocare ci mancherebbe altro i rossoneri però devono trovare un equilibrio in campo devono diventare una squadra se riuscirà a far questo salto di qualità potrà ancora dire la sua il pericolo maggiore per l'Inter e qui siamo d'accordo con Sacchi quello di sentirsi già arrivati è un rischio che si corre dopo prestazioni come quella di Napoli i nerazzurri devono considerare questo successo un punto di partenza penso che se insisterà su questa strada e se Simone Inzaghi riuscirà a renderla ancora più coraggiosa per l'Inter si possano aprire spazi anche a livello internazionale cioè diventiamo europei hanno dato una prova di forza notevole ora devono continuare a tenere il piede sull'acceleratore senza pensare di essere dei fenomeni e questo è quanto bisogna fare soprattutto nella gara con l'Udinese che arriva che ti può dare un vantaggio che non puoi sottovalutare perché se no finisci a perdere punti ancora più sanguinosi di quelli già lasciati per strada però pensate che l'Inter ha 8 punti più dell'anno scorso 8 punti in più ha perso solo una partita contro il Sassuolo che stava vincendo pareggi con Juve e Bologna e poi tutte vittorie con un ruolino straordinario soprattutto in trasferta dove ha subito solo un gol a Torino e uno a Bergamo e poi una difesa incredibile tutte vittorie il pareggio di Torino quindi non so se sarà un vantaggio avere tutti gli scontri diretti a San Silo nel girone di ritorno però è una squadra che cresce in consapevolezza in autostima e queste sono vittorie pesanti però che non devono far pensare di essere già a più di metà dell'opera perché l'abbiamo visto anche poi dopo il 5-1 nel derby sono arrivate prestazioni negative su Sommer ne abbiamo parlato abbiamo dimenticato forse un'ulteriore parentesi su Turam che ormai è sempre più sorprendente nei numeri nelle nelle giocate nelle partite anche se ieri sera non ha fatto la sua solita gara di sgommate lasciando a piedi gli avversari il gol annullato in fuorigioco per una spalla ditemi come sia possibile ancora vedere di queste cose e si ritardi la riforma del fuorigioco con la luce che deve essere basilare perché se hai i piedi addirittura dietro al tuo difendente come fai ad annullare dei dei gol regolarissimi come questi però un Turam che arriva a 5 gol in campionato 6 con quello al Benfica di Champions 6 assist e 4 rigori procurati meglio di lui scrivono solo Milito e Adriano agli inizi con l'Inter pensate che anche lì c'era chi ne parlava come di giocatore che non segna giocatore pacco non è un attaccante sentivamo in estate anche qualcuno pseudo interista acquisto sbagliato bisognava prendere qualcun altro siamo nettamente più deboli rispetto all'anno scorso come erano quelli della difesa vecchia dell'attacco che non è a livello dopo le partenze di Geco e dell'ex 90 e guardate che risposte fino a questo momento qualificazione di Champions raggiunta con due giornate d'anticipo adesso vedremo se si riesce a conquistare il primo posto del girone imbattuti in Champions anche questa è una notizia primo posto in classifica con un ruolino nettamente migliore rispetto all'anno scorso a livello delle migliori partenze di sempre si poteva e si può fare ancora meglio sperando di avere una rosa abbastanza a disposizione che quindi non siano gravi gli infortuni a Dumfries e a De Vrij la moviola della gazzetta ve la leggo subito lunghe proteste del Napoli sull'1-0 per una trattenuta di Lautaro allo Botka iniziazione delle immagini si vede una cintura dell'argentino col braccio sinistro alla vita dell'avversario massa è vicinissimo e lascia correre il Vare in questa tipologia di falli non può intervenire altri tre episodi nel primo tempo pochi centimetri della spalla destra abbastano a Turan per essere in fuorigioco sull'assist aero di Lautaro proteste di Anguissa che cade in aria dopo un duello con Cialanoglu ma l'anticipo del Turco è corretto non c'è fallo di Di Lorenzo su Lautaro sbucato davanti a Meret su colpo di testa di Acerbi nella ripresa proteste azzurre quando Osimen cade in aria dopo un contatto con Acerbi c'è il tocco del difensore con la gamba destra sul tallone del nigeriano l'intensità non sembra tale da giustificare un rigore ancora una volta il Vare non può intervenire voto a massa 5 e mezzo quindi capite anche come difficilmente si possa fare un titolo interboom con gli aiutini no comment interissima è invece la prima pagina della gazzetta sbanca Napoli e torna a più due sui bianconeri messaggio scudetto magia di Ciala Slalom di Barella e poi Turam super sommere campioni d'Italia contro l'arbitro andiamo all'interno l'Inter spaventa tutti Ciala Barella Turam colpo in casa Napoli la vetta è Dinzaghi la Juve torna a due punti la capolista soffre per 44 minuti poi il turco spiana la strada per la quarta volta su quattro Simone risponde a un sorpasso con contro sorpasso un messaggio di forza per gli azzurri quarto K.O al Maradona avevamo detto che poteva essere anche quella una chiave a cancia la nogula il 20 sulla schiena va a letto diviso per due se c'è un posto al mondo dove si sa che sono i 10 a cambiare la storia questo è Napoli dopo 44 minuti sofferti compresi una traversa di Politano e il paratone di Sommer Ciala calciato in rete una meraviglia spienato la notte nera azzurra a parte che voglio dire anche l'Inter ha avuto le sue occasioni gol annullato per il fuorigioco l'uscita di Meret con Lautaro a tu per tu non è che è stata solo una prima frazione di gioco azzurra combattuta bella partita viso aperto Pagela Gazzetta consentitemi anche qua di sottolineare come si possa mettere De Vrai come non dicono peggiore voto più basso sta in campo solo 18 minuti prende 6 che senso ha mettere lui che si fa subito male come voto peggiore il migliore per la Gazzetta è Barella 8 il piedino sul gol di Cianalogo il velluto prima del missile occupa tutto divoratore di spazi in uno dei tanti slalomeggia fa un gol da urlo Inzaghi 7 e mezzo prende il meglio da tutti è il suo merito più grande guida una macchina perfetta il navigatore è impostato in direzione scudetto Sommer 7 e mezzo mezza vittoria è sua blocca Elmas in avvio lo stoppa nuovamente al ventesimo fenomenale su Guvara nel silenzio è una certezza dov'è Sommer? eccotelo qua 6 e mezzo Darmian 7 a Cerbi 6 e mezzo Dunfries 7 Cialanoglu 6 e mezzo Mkhitaryan 6 Di Marco 7 Lautaro 7 e mezzo Turam 7 Carlos Augusto 6 e mezzo Quadrado che entra e fa subito assist e adesso sarà ancora più importante il colombiano 6 frattesi che ho visto poco un cuore da scudetto Ciala Grandinumeri Barella che slalom in mezzo è solo Inter anche De Vrij e Dunfries finiscono Kau guai muscolari domani gli esami Inzaghi prova di forza vittoria pesante ci serviva una gara così Simone esulta contentissimo giusto abbracciare tutti i ragazzi ma abbiamo ancora tanto da fare muscoli assist e fiuto del gol Marcus viaggia come Milito e Adriano solo il principe e l'imperatore meglio di lui nelle prime 14 però quel giallo da esultanza poteva evitarlo la rabbia invece del Napoli Mazzar ritace il DS Meluso l'arbitro Evar giornata no e il capitano Di Lorenzo con le big dura recuperare questo sulla gazzetta poi sa chi l'abbiamo già letto Corriere dello Sport i nuovi mostri e la copertina con Turam che festeggia insieme a Barella Inter padrona 3 a 0 a casa dei campioni arriva il sesto successo su sette trasferte in gol c'ha la Barella e Turam il club di De Laurenti si ribella due errori dell'arbitro Inzaghi stravincia Napoli si riprende la vetta l'Inter gela il Maradona Inzaghi scavalca di nuovo la Juve ferma il tentativo di rimonta dei campioni raggiunti dalla Roma al quarto posto Mazzarri anche sfortunato sullo 0 a 0 Politano prende la traversa Sommer ferma un bel Napoli in avvio poi è monologo nero azzurro Ciala Barella Turam riportano Simone sul tetto del campionato per la moviola del core sport sviste di massa primo go da annullare a Cerbi rischia nel contatto con Ozyman da uno scudetto all'altro in 90 minuti e mentre il Napoli sente che il suo gli è già stato strappato via l'Inter se ne torna in testa ci pensa e lascia che la storia resti un affare privato a due con la Juve aspettando magari di capire dove possa arrivare il Milan Napoli furioso arbitraggio inaccettabile Mazzarri non parla lascia al club il commento su quanto accaduto durante la pesante sconfitta il DS Meluso rigore netto su Ozy non si può discutere sul fallo il primo gol era irregolare sconcertati anche dal VAR e adesso arriva la Juve Inzaghi ora diranno che siamo senza rivali Inter una grande prova di forza dopo il primo tempo di Lisbona però i commenti erano diversi Barella ringrazio i compagni mi hanno fatto sentire importante e aiutato a superare un periodo difficile Pagella del Core Sport Inzaghi 7 e mezzo Sommer 7 Darmian 7 Bissech e Debrai senza voto più giusto così Carlos Augusto 6 e mezzo Acerbi Edunfris lo stesso Quadrado 6 mi sembra poco perché confezione anche l'assist per Turam Barella 7 e mezzo Cialanoglu 7 Mkhitaryan 6 e mezzo Frattesi 6 Di Marco 6 e mezzo Turam 7 Arnautovic senza voto Lautaro 6 e mezzo dell'altro giornale direi dopo quel titolo bypassiamo in scioltezza e quant'altro e ci concentriamo invece ai vostri commenti al video Pagella e da vedere e mettere un bel like tutti mi raccomando andiamo a leggere i vostri commenti e video che deve arrivare a essere molto più in alto mi raccomando partita sontuosa Pasquale un grande summer che nei momenti più importanti ci ha messo i guantoni secondo me migliore in campo anche a mio parere ben 16 like per Pasquale Francesco Giaconelli ennesima prova di forza da parte dei nostri ragazzi altra partita giocata ai limiti della perfezione vittoria di un'importanza totale contro un avversario di tutto rispetto bravissimi tutti contentissimo per Barella che finalmente ha trovato il suo primo gol in questo campionato Luca De Feo mi sto ancora sfregando gli occhi partita incredibile squadra sontuosa Sommer sarà cinesca Barella Funambolo Ciananoglu devastante Turaminesa orribile peccato per gli infortuni altri commenti degli abbonati Paso Doble una grande inter libri antichi online gran prova di forza della squadra trittico settimanale chiuso nel migliore dei modi Anthony Magno grandissima partita primo tempo solo Napoli poi quanto siamo usciti grande inter vamos Giuseppe Cappogna soddisfazione grandissima quest'inter mi ricorda quella del trap una schiaccia sassi anche se gioca in maniera differente poi andiamo agli altri commenti non solo degli abbonati che ringraziamo per la loro vicinanza e il loro sostegno totale ancora Maurizio Tibaldi Sommer strepitoso Galaxian vinto stravinto da vera squadra unita e consapevole Paolo Giulio Valdi vittoria di importanza fondamentale Aurelio aspettate a scrivere per ascoltare poi i commenti fanno passare il messaggio che l'Inter vince per gli errori arbitrali puntini puntini magari ne parliamo in live se ci riusciamo state pronti all'ora dell'aperitivo buon lunedì